Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft Allora, funziona che è una meraviglia Già ne ho fatti tipo due c'erano, ce le ho messi io, quindi due ne ho fatti Ma ne ho fatti due adesso in poco tempo perché Guardate di sotto che ho fatto una miglioria del tipo Allora, intanto ho rifatto tutta la stanza perché in quell'altra maniera non si poteva vedere Manca il soffitto, lo farò poi Ma ho fatto moltiplicare questi e come precisamente così Intanto col buon mia la bestia, poi ho messo questa cosa qua tipo Cioè questo meccanismo, questa cosa è terribile se lo senti Allora, questo meccanismo come funziona? Pistoni sotto ovviamente, sabbia E così i piccoli non possono andare nell'acqua e quindi essere portati sopra quando cresceranno Ma bensì restano qui e crescono qua e si riprodurono Quindi tutto questo è stato fatto per velocizzare la riproduzione successivamente poi Perché più sono, più si riproducono Ho sprecato un casino di bomb meal Però, bene Questo lasciamo aperto perché dovranno salire là Oggi ho fatto un po' di trade con un chierico che scambia la carne di zombie E ho visto che non c'è bisogno, cioè basta comprargli qualcosa e poi si riviattivano subito gli scambi Quindi come progetto di oggi andiamo a creare due farm di cane da zucchero Una completamente automatica Quindi quando ho tempo di stare tipo FK Vado lì e mi faccio cane da zucchero per poi prendere un fottio di smeraldi L'altra invece la faccio normale Là sto iniziando a spianare il tutto Cioè è proprio massificata Ci faccio un fottio di canne da zucchero Ne ho 16 qui per la farm Andiamo a prendere subito il necessario E la facciamo ovviamente sotto terra Come al solito Facciamo partire questo pay drop Sì ho aggiunto la leva, lo faccio partire ogni tanto Se no mi teneva la memoria troppo impegnata Ho messo a cociere altre pork chop che avevo qua dentro Allora Sì, quello che ci serve sono Pistoni a manetta, redstone Redstone Un repeater, li prendiamo tre così Tre repeater Un pistoni a manetta Quindi pistoni a manetta, pistoni a manetta Mh, è vero pistoni Per ogni fila, cioè per ogni canna da zucchero che metto Ci serve un pistone quindi Altra redstone e ferro Ah con il ferro siamo arrivati a questa quantità Quindi insomma devo stare un altro po' FK Per il beacon intendo, eh Sia chiaro Allora Pistoni Tac No, for 21 sono troppi però Tac No, sei Ecco, così Così sedici pure Vediamo Quante ne faccio? Sedici Sedici Bene Rimettiamo a posto il legno Tac tac Quindi sedici pistoni Redstone ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Comparatore 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 quindi torce di redstone Redstone ce l'ho Mi serve la cosa Cazzo Ah, ho preso anche del micelio Missilium E' questo Allora, come cazzo si faceva il comparatore? Vabbè Tac No, così ripidera Giusto? Sì, infatti Madonna 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 Ci sono anche dovuto andare a guardare L'età L'età Un EV che inizia a perdere i colpi E ragazzi E' così Con l'età Niente A parte cazzate Adesso ne la posiamo Ho posato anche tutta la Ah, ho usato tutta la cobblestone Giusto Cobblestone Mmm Stone bricks Ah, wow Troppi Eh, co Questa prendiamo E facciamo un po' di stone bricks Questa la riposiamo Bene Penso che si possa Scendere Finiamo Ecco, ottimo Scendiamo Ho rifatto anche Ho ripreso tutta Diciamo Di nuovo Una bella scorta Di cibo Perché Vabbè Poi la farm Un po' funziona bene No, non ho problemi attualmente di cibo Però Non si updaterano queste mappe Ma che cazzo Vabbè Non lo so Si updateranno Forse Ah, qui ho fatto una piccola miglioria 29 Ecco Ah, va bestia Ma Ho messo i comparatori anche qua Qui c'è il mob spawner Dove è? Dove è? Ah, no, no, non è qui Scherzavo È di Dove cazzo è il mob spawner? Ah, eccolo Sì, è questo qui C'è il mob spawner E appunto senti dei versi Di zombie bestiace Comunque sì Perché ho messo Un'opera anche qua sotto E sotto al pistone Perché ovviamente devo fare il giro Perché questo? Perché I drop magari cadevano anche di qua Andavano Insomma Poteva dropare sia qua che qua Quindi qui andava bene Qui E non lo prendeva e despaunava Quindi ho detto no Cazzo No E quindi ho Ho fatto anche quest'altra cosa Allora qui No Questo è il reparto carne Reparto carne Reparto Cosa sta qui Eh sì Quindi la dovremmo fare Questa stanza Vai Andata Quindi lo scavo Faccio e poi ci rivediamo Tra breve Questo è un problema Questo è un grosso problema Siamo al mob spawner Eh sì Siamo precisamente al mob spawner Il che Non è proprio buono Anzi Anzi Per nulla Qui Che cazzo Mi invento io Ma attento Non mi serve L'ingresso qui Non mi serve Questo spazio Però non mi basta Vabbè No La faccio più lunga Arrivo di qua E Niente Quindi Chiudo qui E vabbè Tac Così Ah tra poco Allora ho deciso di farla qui Perché lì Rimaneva abbastanza inagibile La faccio lunga 16 blocchi La voglio Bella potente Questa farm Ne serve Un fottio di canne da zucchero Quindi Andiamo subito A fare il primo passo Allora Iniziamo subito A togliere anche questa fila Spostiamo un attimo la torcia Ecco Ho preso Altri materiali Ho fatto un Salto su al magazzino Ho posato del ferro Che avevo trovato Ho posato anche Qu'altra robaccia Che avevo Addosso E niente Adesso sono Lindo e pulito Sand Poi Acqua Da qui Bene L'ero segnato il punto Prima No Qui però mi serve Qui mi serve Della Per ora Della È un blocco Perché ci devo mettere l'hopper Madonna Madonna Ecco Datemi l'hopper 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 L'ho preso Eccolo qua infatti Ho preso anche 6 secchi d'acqua Perché sa Non si sa mai Quindi Da qui scende Vediamo anche L'altro secchio Lo faccio partire da qui E Mi arriva praticamente Qui Ah ecco Ottimo Ottimo Mi arrivano qui Io faccio No vabbè Ma è brutto Così non mi piace Così non mi piace Vabbè Li metto Li faccio mettere Così Guarda Facciamo una cosa Molto Easy Tipo 2 3 E 4 Poi vabbè Li aggiungerò poi Tac Tac Fammi salire Madonna Madonna No non è proprio Facile Facile Ma sarei un po' Anchieso Ecco Vediamo se funziona Ok ottimo Ne metto un altro qui Perché Metto un altro Bene E poi Questo lo farò andare qua Metto una cassa qua sotto Vabbè Poi sistemeremo poi Adesso Acqua a manetta Tac E siamo a posto Ora Posizioniamo le canne da zucchero Tac 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 No questa no Mi avanza Ah perché ho saltato uno Certo Bene poi andremo a mettere Un fottifo Quanti fps vado Ah se di fatti lagga parecchio Ah perché l'acqua scorre Forse Quello è il problema Vediamo Vediamo Sì Decisamente meglio Decisamente Però l'acqua Poi mi si ferma qua Ho capito Dovevo mettere La manetta Niente Metterò O per a manetta Tanto ferro ne ho quindi Sti cavoli Ferro Diciamo Ho per sia Siano Anzi Bene Prendiamo l'acqua da qua Un po' mi da fastidere Che poi Rifattere tutto Insomma Ci vorrà un po' di tempo Però vabbè Pace Cioè nel senso mettere L'acqua Mettiamo qui Mettiamo qua Ok non scorre più E in effetti 35 fps Buono 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 Ora Pistoni Che vanno messi Qua così Giusto Bene I pistoni Che si andranno A tirare qua Quando appunto Arriverà Quando sale la canna Da zucchero Infatti qui ci andranno I Questi Bene Quando E dai Finiamo Ok perfetto La canna da zucchero Che fa Cresce Va Tocca qua sopra Si update Poi il sistema Che ve lo faccio vedere Dopo E Scattano i pistoni Tutti insieme Boom E poi tornano là Vado A fare il meccanismo Da dietro Dove cazzo passo Da dico Me lo faccio cercare Ecco Così Bene Siamo E siamo qua Qui è dove C'era un fottio di Di carbone pure E Eccolo infatti C'è un altro pezzo lì Che non ho preso Appunto C'è la cobblestone Non ho fatto nessuna build Qua sopra Cioè Lo sapevo Ero consapevole Al massimo No ma poi siamo parecchio sotto Rispetto alla prima stanza Della Cosa sotto terra Quindi nemmeno là Dovremmo sbucare Più che altro Mi serviranno Più repeater Forse Ma no Non lo so Fate a guardare dopo Adesso redstone A manetta Tutta redstone Qua sopra Questo è il blocco Avete capito che blocco è così Eh certo Avete capito Sì Perfetto Qui a un certo punto Tipo qua Mettiamo un repeater Che se no Il sistema non funge Cioè non funge Perché sono più di 12 blocchi Sono 16 È normale Che non funzioni Una fornace Madonna Ho scordato la fornace Si serve anche una fornace Facciamo così E ce la craftiamo Subito Eccola qua Fornace Allora Il sistema Consiste in questo Fornace Altro pistone Che non ho fatto Lo faccio su Non ho legno Ottimo Non ho legno Lo devo andare a fare Madonna Che bestia Comunque Fatemi scavare Un altro po' Qua sotto non c'è nulla Ottimo Che cazzo Ah e qui c'è il coso Uff Vabbè Qui Niente Buono Qui perché Che cazzo di motivo C'era una torcia Io quando costruisco Non so che cazzo faccia Tac E Bene Vado a prendere Il resto E ci rivediamo tra poco Eccomi tornato E allora Siamo pronti Per completare La costruzione Altro pistone No Su Madonna Ok Più che altro Devo abbattere E fare un'altra fila Qua perché Il meccanismo Necessita di Spazio ulteriore Rompiamo Ormai Comunque Questo piccone È una bestia Si sta rompendo Però Lo riparerò Bene Questo E Questo Qua sopra Cosa ci va Qui ci va Questo Si si va Ci va proprio La roba dentro Cobblestone Oppure che vi pare 64 Oppure Il comparatore Eccolo Il comparatore Prendiamo Un blocco Ecco quale Può essere anche Cobblestone Tranquillamente Tac Ecco E scaviamo ancora No ma il meccanismo È semplice Sono io che ci metto Una vita a farlo Non è Diciamo Di Di norma è semplice Ma io ho sbagliato Le misure Tipo va qui il comparatore No dove Che cazzo ho fatto No qui non ci può andare Sicuramente Tipo Che cazzo ho fatto Sì ecco Qui diciamo che La fornace va Sull'ultimo pistone E Il pistone Con la sabbia sopra Vanno di qua In modo tale Che la sabbia sia Diciamo a paro Ecco Qui sotto ovviamente Non c'è il pistone Bene Sicché adesso Io posso mettere Il comparatore Tac Cobblestone Ci andiamo a mettere Qui redstone Questo lo leviamo un attimo Lo rimettiamo però Perché se no Non si vede Un emerita Cazzo Tac Qui ci mettiamo Un altro repeater Così tanto per bellezza E siamo a posto Dovremmo essere a posto Adesso Rimettiamo La roba dentro La fornace Tac Sì Questo ha la mano E iniziamo a fare Tutte le varie Migliorie del caso Si si update Poi dopo Non so Dopo un po' Prende via da solo Ecco E' perfetto Vedete Non c'è Nessun'altra Miglioria da fare Mettere soltanto Torcio A manetta Ho detto A manetta Mi è preso a dire a manetta St'episodio Madonna ragazzi Mi è preso a dire a manetta Non mi piace parlare in dialetto Vediamo Ecco Torcio una qua E dovremo essere a posto Sì Questo è il meccanismo ragazzi Mettete questi blocchi dietro Metteteli E' abbastanza importante Che voi li mettiate Qui ci lascio il passaggio Che me ne frega Adesso vi faccio vedere Soltanto Che funziona Ok Prendo un attimo Queste due sugarcanes E guardate Appena Cresce Si updata Ecco vedete E che cazzo rimane su Perché Quale motivo è rimasto su Che problemi ha Ah forse Aspetta No Perché rimane su Che cazzo fa sto cosa Sinceramente non lo so io Che cazzo Ma guai Ma è dai Il piccone Allora All'inizio Dà un po' di problemi Dopo prende via Ecco Poi dopo prende via da solo E non so Per quale motivo lo faccia Comunque è vero L'avevo provato in creative E non mi funzionava Dopo Poco Cioè dopo un po' che Ci giro un zonamento Intorno E inizia a funzionare Madonna Mi si ferma così Risolvo il problema E E ci rivediamo Allora Era il repeater Che dava fastidio Guardate E ritorna a posto Quindi Dovrò smantellare Due file Due Pistone Vedete E' perfetto Quindi Questa e questa No Questa pure funziona Si Queste due Da Da abbattere E quindi Niente Lo farò off camera Ovviamente Non vi Vi tengo qua a vedere Noiose parti In cui lavoro Vabbè che poi Apparente è finito Basta fare Così e così E finisce Ecco non era Non ci voleva Granché Io faccio Io faccio le ultime cose Metto gli upper E poi vi saluto Bene Finito E questo è il risultato finale Già ne ho fatte Già ne ho fatte Undici In pochissimo tempo E Pressoché Fantastico E' un'ottima farm Sì sì Adesso Screenshot Boom Io vi ricordo Di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto Come al solito Ah ho messo la cassa pure al contrario Vabbè Eccola Un'altra Undici Adesso vado a spienare Un'altra collina Comunque dicevamo Se il video ti è piaciuto Vi è piaciuto Come vi pare Lasciate un mi piace Un commento La cosa Cioè se davvero volete Aiutarmi E sostenermi La cosa migliore da fare È lasciare E diciamo Condividere il video Sui social Per farmi conoscere Perché ancora Insomma Il pubblico C'è no Ma è ovviamente piccolo Per un canale youtube Ringrazio tutti quelli Che mi stanno sostenendo In questo periodo E ringrazio tutti i nuovi iscritti Io vi saluto Vi aspetto domani Al prossimo episodio Con la farm Di canne da zucchero La massificata Bestia Finita E niente Un saluto Ciao a tutti A domani